Sono tutti in mozza, sono tutti in vacanza, e la gente si approzza, poi la sera si danza, sono tutti in piloti, c'hanno il fisico a posto, e ogni mese di agosto vengono tutti qua. C'è una pipa di mozza, che ha una scuola di danza, e che viene a distanza, per ricca con la danza, ma ora abbiamo pagato, e venite a mozza, e con questa valsa, non potevo farla, ma ci fa male anche a noi, per ricca con la panza, per ricca con la nera, con la torta di speranza, ma ci fa male anche a noi, sotto il cielo di mozza, e non faremo a stupido, ma ci fa male anche a te. Sì, ma ricominciamo, un po' con il portiamo con le mani, ci si presta. La fascia da marina, c'è un ruvescio, mamma mamma, vanno in una uova, in escia. Quando è bello, lupi, il bambolo, lusi, con il più del tanto. Come cantante, a bè, Come cantante, a bè... Come cantante, a bè... Sì, ma io direi che sono più forti i fenomeni di me, un applauso, uno, zero, per loro, sono più forti, che sono? No, ragazzi! Come cantante! Come cantante, a bè, come cantante, a bè, come cantante! Come cantante, a bè, come cantante! Quando è bello, lupi, 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 lupi,... Come cantante, a bè, come cantante, a bè! Sì! Uno, malati! Prima! Beto che il musico comincia a essere più da barro! Ora or facciamo una cosa bene! Diamo soddisfazione a tutti quanti, perché se uno la informe è llevando un po' difully la mente, perché lupi uno vuole una autotica. Ma quattro voi neetzt me! invertiamo, facciamo fare come andrebbe il suo freno e allora voi finalmente potete chiamarmi Samantha ti ricordo che se stasera il comitato peste anziché di chiamare a tali tambro chiamava Gigi D'Alessio mi vendevate più soldi e non lo potevate neanche chiamare Samantha e si fatta la veste e stai anche quanta graffina vedeci a piccandante quanto è bello non mi fa ancora tu si volte e chi pensa come andrebbe come andrebbe come andrebbe no giustamente al centro qua in mezzo se il signore questo ragazzo qua avanti diceva gioco stiamo in mezzo ma diamo una possibilità anche a quelli di centro quando avete finito di fare come andrebbe stiamo in mezzo tutte le file centrali in tedesco tutti quelli che stanno facendo mi guardate e mi chiamate sicchianoffata vediamo che in mezzo voglio un applauso a questi di centro che non capisce che vuol dire in italiano vuol dire che cosi che non ti stai così quanta dov'è sta perda quanta cammina più figuri merda in it quando è bello ancora lucido è più bello vabbè vabbè sicilio fuori vabbè abbiamo davvero il paese ma tutto questo accetto è qua sopra buonasera salutatevi così provate signora sono al bacone giustamente c'è il calma passano anche a dove facciamo partecipare tutto il paese allora da qua come andambe sull'emersamente quando avete finito il cedimento in thailandese mi chiamate sportekagis sportekagis che in thailandia vuol dire cassetta di lotti maturi fate un applauso a questi ragazzi che mi dovranno chiamare sportekagis sono l'assurdo vediamo che esce ho un baccone ho un baccone ho un baccone verso un colpo avvisa quando è bella l'unica ancora lucido e più bella come canto a best come canto a best come canto a best come canto a best potete come canto a best 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 Sì! Sì! E' grazie! Sì! Oh, ma non è vero! Abbiamo rovinato un paese! Tutti maschi sulla tecchi! Sì! 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 Vediamo che adesso! Come ti mandiamo le mani! Guardi, mari, mari, ma ci baciò la risa! Ma ci baciò non tommo senza la capisa! Quando è bella, non vi faccio! Non si vuole più bella! Non mi canto a pezzo, non mi canto a pezzo, non mi canto a pezzo, non mi canto a pezzo! SEMET! Sampatana, signore! Quando siamo arrivati a terra, signore! Ti devo riprendere il tempo! io mi riesco a malinzandraghi, faiassi signor signor, sta la signora la sopra signor buonasera, mi sentite? posso chiedere una cortesità sopra al balcone? voi siete proprio di qua signora? di Ciorlano? no allora spiegate, non la posso far fare la signora chi è che dice Orlando proprio? se non c'è una mese? a fianco sta questionariamente con gli occhiati qua buonasera ti posso chiedere una cortesia? io faccio cantare a tutti quanti insieme in coro tutti quanti fanno come caldo come dice il filosofo tutti quanti contro di me solamente tu ma non mi senti dalla dietro forse sta bloccando vabbè c'è di me esatto ci riesce a chiamarmi sacchetto dalla sopra? sacchetto no no vabbè non ci riesce volevo chiedere alla signora ma non l'avevo detto come ho intendito ma spera diceva una cosa se uno proprio dice aspetta guarda il cammino vieni esci fuori d'acqua dietro esci fuori d'acqua dietro vieni qua la diceva un passo un'altra volta con la voce di animale quando io ho terminato mi guardi negli occhi e mi chiami sacchetto con tutto l'affetto però tutti quanti insieme facciamo come candabè sacchetto troppo bello grazie 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 grazie